Nel primo pomeriggio di ieri un ingendio è stato appiccato da ignoti nella discarica abusiva sorta sotto il ponte di Contrada Malvizio a Favara. Le fiamme, alimentate dal forte vento di Scirocco, hanno subito investito e arso i materiali presenti, tra questi anche pneumatici. Interessata dalle fiamme, anche la sterpaglia limitrofa al luogo dell'ingendio. La combustione dei copertoni ha provocato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Favara e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. La Contrada Malvizio non è nuova ad episodi del genere. Tra l'altro l'area sottostante del ponte, come molti nostri telespettatori ricorderanno, era balzata agli onori della cronaca nel dicembre del 2010. In un servizio giornalistico avevamo testimoniato come la zona era divenuta un vero e proprio cimitero dei pneumatici. Da allora le centinaia di ruote buttate sono state gradualmente bruciate o inabissate dalle acque del fiume Naro. Corso d'acqua che ricordiamo essere una delle principali fondi da cui le aziende agricole della zona attingono per irrigare le colture. È inutile ripetere che l'ingendio di ieri, oltre a provocare danni alle falde del terreno, ha provocato anche un danno ambientale non indifferente a causa della diossina sprigionata nell'aria. E poi non lamentiamoci se nel nostro territorio sono in aumento particolari malattie. Prima di tutto facciamoci un esame di coscienza perché spesse volte siamo noi a provocarle.